regione toscana il consiglio regionale seduta solenne del consiglio regionale della toscana per il giorno della memoria a prato presso il museo della deportazione e resistenza il consiglio ogni 27 gennaio sceglie un luogo diverso simbolico della toscana per essere vaccino contro l'oblio per non dimenticare ed essere amplificatori di memoria il museo di prato dove si è svolta la seduta rappresenta uno dei luoghi dove si tocca con mano quanto accaduto testimone per tramandare la memoria in toscana il consiglio regionale con la giunta regionale sta lavorando poi per far ripartire il treno della memoria nel prossimo anno che prima della pandemia coinvolgeva scuole e alunni delle superiori accompagnandole dalla toscana ai lager nazisti proprio nel giorno della memoria per un'esperienza forte ma che rendeva gli studenti coscienti della tragedia avvenuta diventando testimoni contro la Shoah il 27 di gennaio non deve essere soltanto oggi deve essere tutto l'anno specialmente in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quelle barbarie non ci sono più compito delle istituzioni deve essere sempre più quello di diventare amplificatori della memoria perché quello che è accaduto non accada mai più in questi anni purtroppo abbiamo dovuto interrompere i viaggi della memoria il treno della memoria io spero che presto le condizioni sanitarie ci permettano di ripartire per me è stata una delle esperienze più significative della mia vita l'ultimo treno la memoria nel 2019 insieme a tante ragazze tante studentesse tanti studenti toscani abbiamo iniziato quel viaggio in cui le ragazze e ragazzi sembravano quasi andare in gita dopo aver incontrato le sorelle bucci il clima è cambiato siamo arrivati ad auschwitz a birkenau e il freddo non era soltanto un freddo che toccava il nostro corpo ma arrivava dritto dritto al al cuore e il viaggio di ritorno ha significato per me tanto perché le ragazze e ragazzi non solo hanno conosciuto non solo hanno compreso ma hanno deciso di diventare testimoni di quella memoria perché davvero quello che è accaduto non accada mai più allora abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal consiglio regionale di venire in uno di quei luoghi come potete ben vedere in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo e compito nostro delle istituzioni è fare in modo di arrivare a più persone possibili compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole di incontrare le ragazze e ragazzi di chiedere a loro un nuovo patto il patto di tramandare di parlare con i loro compagni di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada non accada più e finisco noi dobbiamo davvero cercare di essere vaccino contro l'indifferenza perché spesso si pensa che quello che accade lontano da noi non tocchi noi pensate quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da noi una guerra che pensava non potesse più accadere in Europa invece è accaduta di nuovo e allora a noi anche il compito di lavorare perché ritorni la pace e perché davvero quello che è accaduto non accade mai più innanzitutto esprimo la mia soddisfazione per questa decisione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale di fare tenere la seduta solenne presso il museo della deportazione e della resistenza il palazzo si deve aprire si deve aprire al mondo esterno è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consigliatura ci stiamo riuscendo stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori e se vogliamo concretizzare attualizzare la memoria darle sostanza questa è la scelta giusta così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz un viaggio che ha insegnato proprio il mio modo di pensare il mio modo di essere è stato per me determinante un'esperienza che dicevo oggi presso una scuola retina dovrebbe essere istituzionalizzata penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore che non deve più ripetersi e la violenza e la dittatura devono essere bandite deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni e queste non dovrebbero essere parole di circostanza parole retoriche parole soltanto per questa giornata dovremmo tutti i giorni noi che facciamo parte delle istituzioni alzarci e improntare il nostro agire al bene comune ma anche al rispetto dei valori e delle differenze giornata della memoria e dovere del consiglio regionale della toscana a fermarsi per provare a tutti insieme a condividere quello che è la condanna di un orrore l'antisemitismo le reggi razziali e ovviamente in questo momento in questo contesto storico così delicato in Europa dove la guerra in Ucraina ha riportato diciamo degli orrori che pensavamo essere ormai abbandonati alla storia da parte nostra il senso di responsabilità ci porta a condannare ogni forma di discriminazione di antisemitismo ogni forma di supremazia dell'uno verso l'altro ogni guerra nel contempo stringe la nostra comunità agli ebrei a una comunità che ha lottato che oggi deve essere da parte nostra accompagnata verso veramente un riscatto e la possibilità che la toscana si faccia carico ovviamente di combattere ogni forma di discriminazione e compito di tutte le istituzioni indipendentemente dalla nostra provenienza e la nostra partecipazione ad iniziative politiche di parte innanzitutto partiamo dall'attualità del messaggio l'attualità del messaggio è un messaggio sempre attuale perché quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose drammatiche buie della nostra storia non ci deve mai essere vergogna ma ci deve sempre avere dobbiamo sempre avere il coraggio di fare conti con la nostra storia di fare conti con il nostro passato affinché chi arriva oggi chi ha la fortuna di essere giovane giovanissimo oggi possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori quindi non c'è vergogna a rileggere il passato le parole della segre sono parole che meritano di essere sicuramente interiorizzate lette e è sempre un messaggio è una figura l'iviana segre è una figura sulla quale la politica un po troppo marciata da una parte e dall'altra una serie è una persona alla quale ognuno di noi deve un grande rispetto per la sua storia per le sue vicende personali e ascoltarla parlare non è mai banale non è mai banale ma secondo me facciamo un danno anche a commentare o a strumentalizzare o a cercare di tirare per la giacca un personaggio come lei perché quando parla soprattutto in occasioni come queste è sempre un personaggio che parla non dando una lettura come possiamo dare noi politica o storica dei fatti ma avendoli vissuti in prima persona io credo che una persona che abbia vissuto quei fatti debba essere sempre rispettata quindi le parole non sono da condividere o non da condividere sono semplicemente da ascoltare con grande rispetto interiorizzare e rifletterci solo l'abominio della Shoah è una macchia indelebile nella storia dell'Europa e anche in Italia la dobbiamo sentire con il giusto carico di responsabilità storica che ancora per certi versi fatichiamo ad assimilare siamo in un'epoca adesso stiamo attraversando degli anni in cui gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio ci stanno lasciando e questo ci dà la responsabilità di questo carico storico che abbiamo il dovere di tramandare perché quello che è successo durante la Shoah quello che è successo al popolo ebraico non si ripeta più nonostante i venti di guerra continuino a soffiare sul nostro pianeta e nonostante le guerre non abbandonino ancora la nostra storia ecco questo è il nostro dovere lo abbiamo come cittadini lo abbiamo come istituzioni lo abbiamo nei confronti dei nostri giovani che devono essere in grado di capire ciò che è accaduto e soprattutto devono essere in grado di riconoscere all'interno della società in cui essi vivono quei germi che possano dar luogo di nuovo a dei rigurgiti se non uguali analoghi a quelli che hanno sporcato la storia dell'umanità questo per noi dovrà essere uno dei passaggi che ci dovrà far capire che giorni come il giorno della memoria devono essere nella nostra memoria nel nostro cuore nella nostra azione di politici tutti i giorni in effetti per noi è un grandissimo onore ospitare il Consiglio regionale della Toscana nella sua seduta solenne per il giorno della memoria è un onore e un piacere a dimostrazione del fatto che il nostro museo un po' periferico qua su ha figline di frato ma è un museo di rilevanza regionale infatti sono anni, molti anni che lavoriamo con e per la regione toscana presentazione in Consiglio regionale per la 26esima edizione del Carnevale dei Figli di Bocco di Castiglion-Fibocchi l'edizione di quest'anno è dedicata a Pietro Vannucci detto il perugino a 500 anni dalla scomparsa e vivrà quattro giorni ricchi di eventi con le strade di Castiglion-Fibocchi animate dalle caratteristiche maschere barocche si parte sabato 4 febbraio con Aspettando i Figli di Bocco e si prosegue domenica 5 e sabato 11 con la chiusura prevista per il 12 febbraio con il tradizionale corteo reale che percorrerà le vie del centro storico del piccolo borgo medievale questa mattina siamo qui a presentare la 26esima edizione che appunto si celebrerà il domenica 5 e domenica 12 febbraio a Castiglion-Fibocchi è un carnevale storico ci piace definirlo non è un semplice carnevale ma una revocazione storica all'interno di un borgo meraviglioso che sarà in quei giorni contornato e colorato da opere d'arte uscite completamente a mano dalle sarte del paese diverso perché sono tutte maschere uniche vestiti unici sono opere uniche non ripetibili non si possono modificare e vengono indossate da ragazzi adulti bambini persone che mettono la propria anima in queste maschere e è bellissimo sono particolarmente felice di aver dato anche quest'anno il mio contributo perché si svolgesse qui a Palazzo del Pegaso la presentazione di questo che lasciatemi dire è ben più di un carnevale rendiamoci conto dei numeri effettivi di chi lavora di chi dà il proprio contributo fattivo per il carnevale più di 300 castiglionesi sono una popolazione di 2000 persone rendiamoci conto di questi numeri rendiamoci conto che si tratta di opere d'arte uniche interamente uscite a mano di stile barocco che riechieggiano Venezia e che si tratta di uno dei carnevali più antichi d'Italia quest'anno poi ha la bellezza di fare riferimento a Pietro Perugino a 500 anni dalla morte quindi anche un ricordare questa figura a Pietro Perugino che spesso si dice si fermasse a Castiglion-Fibocchi nella strada di passaggio dalla sua Perugia a Firenze e quindi è un ricordare, è un celebrare è un dare forza e animo a quelle che sono le tradizioni ricordo anche la festa al momento della pasta asciutta le domeniche il popolo che contribuisce con questi piatti di pasta per allegrare ancora di più la gente che viene a Castiglion-Fibocchi lasciatemi dire con mascellato orgoglio che Castiglion-Fibocchi è uno dei borghi più belli della mia provincia di Arezzo e venite tutti al carnevale ma anche in altri momenti perché veramente merita Ogni qualvolta i nostri territori ci propongono le loro tradizioni migliori il Consiglio regionale apre le proprie porte è bello sapere per la 26esima edizione a Castiglion-Fibocchi la maestria degli artigiani locali una comunità che si stringe intorno al carnevale ci prova a raccontare una storia, una storia secolare che guarda anche alle innovazioni e al futuro quest'anno il carnevale è dedicato ai 500 anni dalla sua scomparsa al Perugino anche questo è il segno di un'identità che si ripete allora permettetemi di invitare le cittadine i cittadini della Toscana ad andare a conoscere uno splendido comune un carnevale tra i più belli della Toscana ed essere lì vuol dire non solo conoscere la nostra terra e le nostre tradizioni ma vuol dire anche andare alla scoperta delle innovazioni che solo un carnevale come quello di Castiglion-Fibocchi sa proporre Regione Toscana il Consiglio regionale